Questo si fa per sentire meglio, per sentire meglio l'energia. Una volta che l'ho fatto per un po', che sono rimasta un po' così nella campana, io prendo i bordi di questa campana, la tiro su e la porto in alto e faccio la campana rovesciata. Questa volta la sommità della campana è il perineo e qua c'è tutta la campana che mi arriva fino alla testa. Nei due esercizi viene fortificato questo canale tra i due centri e vengono caricati i due centri con una campana quello sotto, con l'altra campana quello sopra. Quindi carica i centri e crea questo canale, però lo rinforza e lo raffina, quindi è più facile il passaggio dell'energia. È uno dei primi esercizi, ce ne sono altri, questo è molto semplice. Quindi ricapitolando ve lo faccio vedere e così vi ho dato un'occhiata e vediamo.